Dunque, noi lunedì ci siamo lasciati con una schermata di questo file, che era l'elenco degli studenti, che era un tipico file organizzato a record di dati, una riga per ogni studente, ricordatevi che qua non ci sono dati personali o sensibili perché ho rimescolato tutti i nomi, cognomi, le matricole, quindi sono ricombinazioni arbitrarie dei dati veri, dove i vari campi sono separati da un carattere di virgola, che avevamo commentato, ci fa più comodo rispetto a un separatore spazio perché questo permette ai singoli campi di contenere all'interno potenzialmente il carattere di spazio. Questo qui è colorato solamente perché è un'estensione che ho messo su WSCode ma tendenzialmente è un normalissimo file di testo e se dovessimo leggere e elaborare questi dati in realtà lo sappiamo già fare, cerchiamo una riga, facciamo uno split sul carattere virgola e poi andiamo a mostrare le informazioni che ci servono. Però visto che il formato di questo tipo, cioè linee separati da un carattere, con campi separati da un carattere separatore, che normalmente è la virgola, è comune, andiamo a vedere un po' come affrontare più in generale questo problema. in particolare parlando del formato csv, che sta per comma separated values, normalmente è un formato che si usa per salvare in un formato testuale, di testo puro, dei dati che in realtà sono dati strutturati. È il tipico formato di interscambio, di salvataggio, di esportazione di dati tabulari, tipo un foglio excel, che noi vediamo in righe e colonne, si può tranquillamente convertire in csv, stampando in un file una riga per ciascuna riga del foglio di lavoro e le singole colonne, i valori delle celle delle singole colonne si indicano separate dal carattere di virgola, ad esempio. Quindi se voi andate a prendere excel, tra le varie opzioni c'è quella di salva come csv del foglio di lavoro. Chiaramente se salvi come csv è un formato di testo, quindi ti perdi la formatazione, i colori, i fonti, i grafici, le formule, eccetera, eccetera. Però per scambiare dati è molto utilizzato. Ovviamente il csv, siamo così ingenuo, che potrebbe essere questo, anche lui ha delle limitazioni. nomi, ad esempio, come faccio a inserire dei nomi che contengono a loro volta, al loro interno una virgola, oppure dei caratteri speciali, un tab o la capo, posso inserirlo come carattere all'interno di un campo, in teoria no, a meno di non usare un formato più completo, in cui i campi non solo, non solamente sono separati da virgole, ma sono anche circondati da un delimitatore come potrebbero essere le virgolette. Allora, se io avessi questi campi in questo modo, sarei più tranquillo perché anche, questi sono nomi di film e di registi, anche se il nome di un film contenesse carattere di virgola, lo potrei distinguere senza ambiguità, perché aperte virgolette, tutto ciò che sta dentro le virgolette sarà il nome del film, anche se contiene delle virgole, fino alle chiuse virgolette. E quindi però dovrò, nell'elaborare questo tipo di file, dovrò distinguere tra quello che è questa virgola che separa i campi rispetto a un'eventuale virgola che sta dentro le virgolette, che invece fa parte del nome, non fa parte del separatore. Questo vuol dire che, insomma, non è che non potremmo fare un semplicissimo split, perché quel carattere, la virgola, assume significati diversi, oppure assume un significato speciale, oppure nessun significato speciale, a seconda che sia dentro le virgolette. Dopodiché, risolto questo problema, c'è quello dopo. Cosa succede se io, nel nome di un film, ho anche le caratteri virgolette. E, vabbè, la soluzione c'è, è quella di usare un carattere di escape per rappresentare certi caratteri speciali. Quindi, se ho il carattere virgolette dentro il nome di un film, tipicamente scriverò backslash virgolette. Cioè, quello che sto cercando di raccontarmi è che esiste chiaramente un formato completo, no? Una specifica completa del formato CSV, che tiene conto di tutti questi fattori. Che però, ovviamente, non sarà così facile da leggere come potrebbe essere questo file qua, in cui caratteri cattivi non ce ne sono, formatazione particolare non c'è, no? Allora, noi possiamo tranquillamente, nel caso in cui abbiamo un file, diciamo così, in questo formato semplice, in cui dentro i nomi non ci sono le virgole, non ci sono le virgolette per delimitarle, non ci sono caratteri speciali, quindi sequenze di escape, che poi dovremmo interpretare. Questo qui lo leggeremo esattamente, lo tratteremo come l'esercizio di un discorso. Faccio split e poi prendo i campi. Se però avessi un file che ha, facciamo così, una sintassi CSV completa, e quindi semplicemente fare split sulla virgola e strip delle virgolette non è sufficiente, allora possiamo usare un modulo che c'è nella libreria standard di Python che si chiama proprio CSV che implementa due oggetti che sono capaci a decodificare una riga di un file in formato CSV tenendo conto di tutte le particolarità della sintassi completa, nel caso PV completo, quindi che abbiano le virgolette che delimitano i campi, che possono contenere all'interno delle virgolette dei carti speciali, compresa la virgola che è un separatore, che possono magari usare la virgola come separatore o vuoi mai un punto e virgola? Se voi prendete Excel in italiano e gli fate salvare un file in formato CSV la versione italiana di Excel te lo salva separando i campi con un punto e virgola. Perché? Ma perché se c'è un numero reale nella versione italiana lo salva come 3,5, non 3.5. Allora la virgola è già usata per i numeri frazionari e quindi hanno dovuto usare il punto e virgola per separare i campi. Quindi non sono veramente file CSV, nel senso che C non è la comma, è un semicolon, un separated variable eventualmente, no? Se è il punto e virgola. Quindi anche qua dovremmo fare split non sulla virgola ma sul punto e virgola. Onestamente io è l'operazione che ho dovuto fare su questo file perché inizialmente mi è venuto giù col punto e virgola perché è stato generato in questo modo. Quindi questo modulo CSV contiene un oggetto che si chiama reader, un oggetto che si chiama writer che conoscono queste regole. E quindi gli posso dire, senti, leggimi la prossima riga sapendo che è in formato CSV e lui internamente si fa tutte le analisi che deve fare e mi dà direttamente una lista contenente i campi della riga che mi servono. Una lista contenente i campi, cioè quello che faremo noi facendo una split. Solo che la fa in modo completo, no? E come si usano questi oggetti? Io devo innanzitutto aprire un file, un file già aperto in lettura e poi chiamo la funzione reader del modulo CSV sul file, passando come argomento il file e lui mi restituisce un oggetto che è un reader di file, un reader CSV cioè un oggetto che è capace a leggere e capire le righe del file e che è un oggetto, un contenitore che a questo punto non è un contenitore semplicemente delle righe del file ma è un contenitore delle liste che rappresentano i campi presenti su ogni riga del file. Quindi questo è un contenitore su cui si può tranquillamente iterare vedete che io faccio l'iterazione non più sul file aperto ma sull'oggetto reader ad ogni iterazione la variabile dell'iterazione conterrà non la stringa corrispondente alla riga ma la lista contenente già divisi i campi che erano presenti sulla riga. Quindi anche nel caso semplice mi evita di dover fare lo strip del barrenne, lo split sulla virgola eccetera. Ovviamente questo non è intelligente e quindi mi restituisce tutti i tre campi come string anche se il 1951 è un numero, in realtà lui non lo sa, per non sbagliare mi restituisce comunque sempre string quindi se io lo volessi trattare come numero sta poi a me andare a modificare il contenuto della riga che ho ottenuto costruendone una con i tipi di dati corretti. Inoltre è possibile nel momento in cui creo l'oggetto reader specificargli se il separatore dei vari campi è una virgola oppure è un altro carattere con un parametro opzionale che si chiama delimiter in cui gli posso dire ok i campi considerarli separati da un punto e virgola, da uno spazio, da un punto esclamativo da quello che vuoi insomma, da quello che mi troverò poi nel file che devo elaborare. Quindi questo semplicemente nell'operazione di lettura e poi quindi lo faccio come con questo esempio lo farei qua, gli passo questo secondo parametro e poi lui legge dando per scontato che il separatore, il carattere separatore sia il punto e virgola anziché la virgola. Esiste un altro argomento che si chiama feed names che indica i nomi dei campi. Adesso molti file, soprattutto quelli che arrivano dall'esportazione da un database o cose di questo genere hanno come prima riga una leggenda diciamo, una serie di stringhe che rappresentano il significato della colonna corrispondente. Quindi matricola vuol dire che il primo campo di ogni riga corrisponderà alla matricola, cognome significa che il secondo campo di ogni riga corrisponderà a un cognome e così via. Queste qua sono, diciamo così, delle etichette di colonna dei nomi dei campi. Ovviamente questa riga qua in prima battuta la dobbiamo ignorare, non contiene dei dati, se vogliamo contiene la leggenda dei dati. A noi interessa sapere, perché se ci interessa il nome, devo sapere che il nome è nella terza colonna, quindi quella di G2 e non nella prima o nella quarta. Quindi mi è sicuramente un'informazione utile, però non è detto che sia un'informazione utile al programma. Ok? E quindi spesso questa prima riga la saltiamo, non la leggiamo, non la leggiamo da nessuna parte. I dati veri cominciano dalla seconda riga. Vedremo la settimana prossima quando faremo i dizionari invece che c'è anche un modo per usare i nomi dei campi proprio per indicizzare i valori, non solamente l'indice della colonna. Allora ritorneremo sul significato di questo campo. L'idea è che ci possono essere dei file CSV i cui nomi dei campi sono già sulla prima riga, oppure dei file in cui il file non contiene i nomi dei campi e allora glieli do io, glieli specifico io. Ma ci interesserà quando lavoreremo con i dizionari. E cosa me ne faccio dei dati che mi arrivano in CSV Reader? Beh, tipicamente sono liste e se io voglio leggere tutti i dati di un file, tipicamente li appenderò a una lista più grande qui l'ho chiamata dati, che sarà una lista che contiene tanti elementi, ciascuno di questi elementi a sua volta è la lista dei campi di questo file. Quindi stiamo costruendo una sorta di tabella in cui le righe della tabella sono le righe del file, le colonne della tabella sono i singoli campi divisi, separati, che troviamo in ciascuna delle righe del file. Tra l'altro questa stessa operazione, lo riporto perché è una scorciatoia che può tornare utile, questa stessa operazione di creare una lista i cui elementi siano gli elementi contenuti dentro questo contenitore è già il mestiere della funzione list. Cioè la funzione list normalmente crea una lista mettendosi dentro gli elementi che prende da un'altra lista o da un altro tipo di contenitore. Allora noi sapevamo che un file era un contenitore, quindi se facciamo list di un nome di un file otteniamo la lista delle stringhe, delle righe. Se questo csv leader invece è un contenitore di liste, avremo una lista i cui elementi sono a loro volta le liste. Quindi adesso poi lo vediamo nell'esempio, questo è un modo molto compatto per dire leggimi tutto il file in una lista in cui le righe, gli elementi della lista sono le righe e ciascuna delle quali è a sua volta una lista che contiene le colonne, cioè i campi. Dimmi, c'è una domanda da quelle parti lì? Il csv leader non è una lista di liste, è un contenitore di liste. Da solo lui non è ancora una lista. Attenzione, una lista è un oggetto che posso indicizzare, quindi potrei dire dammi il settimo elemento. Il csv leader invece è solo capace di darmi ogni volta il prossimo elemento, e qui ci posso iterare sopra, così come le righe di un file, perché lui è legato a un file. L'oggetto csv leader quando lo creo non mi legge l'intero file per crearmi la lista, semplicemente è un filtro che si applica alle righe che vengono lette. Quindi csv leader legge anche lui una righe per volta e me la restituisce. Se io poi lo leggo tutto, una volta che l'ho letto lui finisce come finisce il file, no? Quindi posso iterarci una volta sola. Un contenitore, diciamo che più, nella terminologia corretta lo dovrei chiamare un iterabile, non è un contenitore. C'è qualcosa su cui posso iterare, quindi prendo i dati di una volta, ma non posso farlo più di una volta. E se io avessi bisogno di saltare una riga, come magari in questo caso qua abbiamo bisogno di saltare la prima riga, possiamo dire all'oggetto csv leader vai al prossimo elemento. Quindi ignora la funzione next, che in realtà funziona su tutti gli iteratori, ma lo vediamo in questo caso specifico, passa all'elemento successivo e quindi non mi restituire l'elemento che ho deciso di saltare. Due parole, veramente due, sul simmetrico di csv reader e un oggetto che si chiama csv writer, che sarebbe per creare un file in formato csv. Quindi è del tutto simmetrico, quindi csv writer lo creerò a partire da un file che è stato aperto in scrittura, perché ci devo scrivere dentro, e anziché avere un modo per leggere dei dati, avrò un metodo per scrivere dei dati, che si aspetta di ricevere una lista, il reader ti restituisce una lista, il corrispondente di ciascuna riga, lui si aspetta di ricevere una lista come argomento e crea una riga del file mettendo gli elementi in questa lista, separandoli tra le virgole, mettendo tra le virgolette, eccetera, eccetera, applicando tutte le regole del csv. Quindi se avessimo bisogno di creare un file, possiamo usarlo, possiamo farlo tranquillamente con un fstring, formattiamoci noi la string e ci mettiamo i vari campi separandoli in virgole, oppure lasciamo fare questo lavoro all'oggetto writer del file. Ma la maggior parte dei problemi ovviamente sono quando dobbiamo leggere i dati, non quando dobbiamo crearli. Allora possiamo provare a fare un po' di amicizia con questo modulo csv, facendo un esercizietto che parte da questo elenco degli iscritti, in cui diciamo, ad esempio voglio creare tanti file che contengono un elenco parziale diviso per corso di studi. Cioè voi qua dentro siete alcuni di informatica, alcuni di elettronica, altri di cinema, eccetera, eccetera. Allora vogliamo separarvi, in modo che vi possiate odiare meglio, in tanti file separati. Ogni file, c'è un file, conterrà gli studenti di un solo corso di laurea. Chiaro che alcuni saranno più lunghi, altri saranno più corti, in funzione di quanti studenti ci sono iscritti. Vi ricordo che qui i dati sono rimescolati, quindi vi troverete il vostro cognome nel corso di studi sbagliato. Quindi io voglio ad esempio creare un file che si chiama el1t3.csv che contiene tutti gli studenti che nel campo cds studente, che è questo campo qua, scritto in questo colore, azzurro, verde, acqua, chiamatelo come volete, che corrisponde a questo campo qua, inf, fis, elt, cin, ene, eccetera, eccetera, che è la codifica interna della segretaria dei studenti dei vari corsi di laurea. Le prime tre lettere sono l'indirizzo, 1 significa primo livello, non mi ricordo più, t con il significato rino e 3 significa triennale, qualcosa del genere. Ma non importa, per noi è una stringa semplicemente. Allora noi andiamo a vedere quali sono questi cds, cds sta percorso di studi, cds studente e le andiamo, se non moriamo, a creare tanti file separati, ciascuno dei quali abbia il nome costruito dal nome del campo .csv, il nome del file in uscita. E poi vabbè, chiediamo anche di stampare quanti studenti ci sono per ciascun gruppo, una volta che ce l'abbiamo. Quindi, come procediamo? Allora ricordiamoci i sei passaggi, i sei punti principali, no? La prima domanda che ci facciamo è, ovviamente devo leggere quel file d'ingresso, che ha un nome ben definito. Poi devo creare tanti file di uscita, non so quanti, non so ancora quanti, e i nomi non li conosco ancora perché li scoprirò solamente andando a vedere cosa c'è scritto nel file d'ingresso. Quindi, questa è la prima cosa. Un file d'ingresso il cui nome è noto, tanti file di uscita in un numero che non conosco ancora, con dei nomi che non conosco ancora. Però ho la regola per crearli, questi nomi, no? Non è che sia grave, il nome di un file non è altro che una stringa, quindi devo semplicemente creare la stringa fatta nel modo giusto e poi passo questa stringa alla funzione open. Mi conviene cercare di elaborare il file una riga per volta, il file d'ingresso, oppure leggere prima tutti i dati e poi salvare il file di uscita. Allora, immaginiamoci cosa vorrebbe dire elaborare il file una riga per volta. Ok? Vuol dire che quando io leggo la prima riga, vado a vedere o avrò aperto questo file in lettura. Non ho ancora aperto nessun file in scrittura, perché non lo so. Allora vado a vedere questo campo infuno t3 e dico, eh sì, devo aggiungere questo studente a un file che si chiama infuno t3. Allora in quel momento apro quel file infuno t3.csv e ci scrivo dentro questa riga. Poi a questo punto, una volta che l'ho fatta, in realtà questa riga qua non mi serve più, quindi potrei benissimo passare a processare la riga successiva dimenticandomi quella precedente. Nella riga successiva vedo che c'è un file, dovrei scriverla su un file che si chiama fis1t3.csv. Allora, lo posso fare, apro il file fis1t3 e lo schiudo. E ci scrivo dentro. Poi quest'altra riga in un altro file, quest'altra riga in un altro file ancora, quest'altra riga, la riga 6, dovrebbe andare a finire nella stessa file della riga 5. Allora, anche qua proviamo ad immaginarci il codice che deve a un certo punto leggere una riga e decidere dove scriverla. La cosa più semplice da fare è quando io ho una riga, apro il file in uscita, ci scrivo quella riga e chiudo il file. All'interazione successiva apro un altro file, ci scrivo la riga e richiudo l'altro file. Poi magari all'interazione successiva riapro lo stesso file che avevo appena aperto, che avevo appena chiuso, come in questo caso dove ci sono due cose consecutive. Però è più semplice di esistire così. È pesante perché sto continuamente a prendere chiudendo file e è un'operazione anche un po' lenta, abbastanza lenta, perché il programma deve interagire con il sistema operativo per fare questo. Però è più semplice. L'alternativa sarebbe tenere aperti tanti file e quindi avere una cosa un po' complicata che è una lista di file aperti, che non è nulla di speciale, ma è un po' complicato a gestire, e poi devo ricordarmi il terzo file che ho aperto a quale codice cds corrisponde. Quindi complica un po'. Quindi non è difficile. Cioè non è impossibile. Però mi chiede di fare un po' di ginnastica con questi file di uscita, più che altro perché non so quanti sono, né come si chiamano. Quindi si può fare. L'alternativa invece, la domanda che stiamo ponendo è posso elaborare una riga per volta o mi conviene leggere tutto e poi pensarci? Leggere tutto e poi pensarci è più facile. perché a quel punto posso dire leggo tutti i dati, prendo la prima riga, cosa mi dice? Info 1t3. Ok, allora andiamo a cercare tutti gli info 1t3 nel file. Prendiamoli e stampiamoli tutti insieme in un file di uscita. Poi fatto quello andiamo a prendere tutti i fis1t3 e creiamo il file di uscita fis1t3. Quindi in questo momento, in questo modo avrei, devo leggere tante volte i dati e quindi questo mi dice che li ho letti in una lista, non li sto leggendo una riga per volta dal file. ma poi il file di uscita, quando apro il file di uscita lo scrivo tutto dall'inizio alla fine. Lo scrivo tutto dall'inizio alla fine perché mi vado a cercare gli elementi che ci devo mettere dentro. Non devo aspettare di vederli leggendo ben dato solamente la prossima riga del file. Quindi io partirei in questo secondo modo che richiede appunto di lavorare un po' più sulle strutture dati e un po' meno sul file. E questo significa che la struttura dati che mi serve è una lista, quindi apro il file di ingresso, mi creo una lista contenente tante righe quanti sono gli studenti che contiene alla sua volta i campi di questo file, i vari campi che sono parecchi, che sono un certo numero. che non ho contato. Molti sono campi vuoti ecco occhio che quando se dovessimo fare a mano lo split bisogna anche gestire questo caso qua, dei campi vuoti. I vuoti potrebbero essere due virgola costitutive oppure potrebbero essere virgola, aperta e chiusa virgolette e virgola. Per fortuna il modulo CSV fa tutto da solo. Quindi in termini di approccio io quello che farei è leggo interamente il file di ingresso in una lista un elemento per studente di liste un elemento per ogni campo. E dopodiché cosa faccio? vado a cercare all'interno del file i vari i vari corsi di studio quindi cerco quali sono i vari corsi di studio presenti nel file e li metto in una lista. Cioè potrei avere che l'elenco di CDS è una lista del tipo stringa inf1t3 stringa dove era? fis1t3 eccetera ovviamente senza duplicato questo lo posso fare perché ho la mia tabellona con tutti il CDS sarà nella colonna 3, 4 con te come numero di colonne andiamo a vederlo così lo sappiamo 0 1 2 3 4 5 6 nella settima colonna quindi segniamocelo perché io poi tra un attimo non lo dimentico nota il CDS è nella colonna ho detto ho detto 6 cioè la settima vedete che me lo sia dimenticato e poi terzo blocco vado a prendere uno per uno questi CDS iterando su questa lista per ciascun elemento per ciascun elemento di elenco CDS di elenco CDS cosa faccio? apro il file con il nome giusto e scrivo e scrivo nel file tutti gli studenti del CDS corrispondente qui mettiamo ancora giusto così diamo un nome a questa cosa qua la potremmo chiamare studenti come sarà fatto studenti? sarà una lista di tante liste la prima conterrà i dati del primo studente quindi questo numero di matricola virgola questo cognome virgola questo nome non fatemeli fare tutti eccetera poi il secondo elemento conterrà anche lui un'altra lista che contiene i dati del secondo studente quindi questo qui questo qui mettiamo ancora il nome e poi ci stufiamo quindi la prima parte del programma deve aprire il file e costruirmi una struttura di dati fatta così che chiamo con tanta fantasia studenti una lista di liste la seconda parte del programma analizza studenti adesso lo chiamiamo per nome gli abbiamo dato il nome e crea elenco CDS la terza parte prende un CDS e crea il file mettendosi dentro i dati da studenti corrispondenti quindi questo in termini di programma principale è fatto da tre istruzioni quattro se usiamo delle funzioni allora il primo blocco è questo quindi io creo studenti uguale leggi studenti a cui passo il nome dai bravo non voglio quello di un altro file leggi studenti a cui passo il nome del file che è questa cosa qua incomprensibile non c'è mi sembra rossa perché non c'è ancora questa funzione ma adesso la scrivo dammi tempo però fa quello fa quello che ho scritto sopra poi cerco una lista eccetera eccetera allora io avrò un'altra funzione mi scrivo un'altra funzione che estrae i cds dagli studenti è una riga in mezzo questa funzione però e poi l'ultimo blocco vado a prendere uno per uno i cds dell'elenco quindi ci metterai un for cds in elenco cds e poi faccio scrivi studenti a cui gli devo passare due informazioni c'è il cds da scrivere e da 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 elaborare e l'elenco degli studenti chiaramente quindi il singolo cds che è una stringa e tutti gli studenti ok ma questo è il mio programma principale adesso se siamo d'accordo che questo sia l'algoritmo che ci piace si tratta di implementare queste tre funzioni che sono già specificate sappiamo già abbastanza bene cosa deve fare ciascuna vi apro ne approfitto per una piccola parentesi dove le scrivo queste funzioni? allora le funzioni le devo scrivere in modo che quando il programma arriverà alla riga 17 questa funzione esista già quindi tipicamente la funzione dovrà essere definita prima cioè se io scrivo qua sotto def leggi studenti nome file chiuso a tonda questa è e rimane rossa perché è vero che questa funzione è definita o meglio questa funzione sarà definita quando il programma arriverà a passare dalla riga 30 finché il programma non arriva alla riga 30 la funzione non è definita quindi la regola dovrebbe essere no la regola non dovrebbe essere posso chiamare una funzione solo dopo che l'ho definita ma non è che si stupisce posso usare una variabile solo dopo che l'ho definita perché ve ne parlo perché è tanto bello avere il programma principale all'inizio e le funzioni di appoggio sotto proprio anche più facile da leggere per non andarsi a cercare il programma principale chissà dove l'ha in mezzo ma questa regola qua ci dice no mi devi mettere prima le funzioni e poi il programma principale in realtà si può anche derogare da questa regola mettendo anche il programma principale dentro una funzione che è il modo che uso di solito cioè se tutta questa roba qua che è il programma principale lo metto dentro una funzione che chiamo main per ricordarmi che è quella principale quindi ci metto davanti def main e indento tutto di un gradino voi mi dite non è cambiato niente no è cambiato che se guardiamo leggi studenti non è più rosso perché? ma perché quello che succede è che viene eseguita la riga 10 ne parlavamo già quando vedevamo le funzioni io quando vedo la definizione della funzione non eseguo la funzione la prendo e la metto da parte poi viene eseguita la riga 31 e quindi viene definita quest'altra funzione allora l'importante è che quando verrà eseguito il programma main questa funzione sia già stata definita allora questo vuol dire che la funzione main l'ho solo definita questo programma qua è fighissimo perché non fa niente lo faccio a run e non fa niente perché definisce una funzione definisce l'altra ma poi non c'è nessuna istruzione vera e propria il programma principale è vero non c'è l'ho messo dentro una funzione però questa funzione non ha nulla di speciale quello che devo fare perché questo programma faccia qualcosa davvero è chiamare la funzione main e la chiamata della funzione main e solo questa deve essere dopo tutte le altre funzioni in modo che quando effettivamente eseguirò il main e quindi quando effettivamente verranno eseguite queste istruzioni qua ho già letto tutto e quindi ho già definito tutte le funzioni che mi servono quindi questo ha un doppio vantaggio cioè un triplo primo è di ordine prima metto il programma principale poi sotto metto le varie funzioni nell'ordine che voglio tanto verranno lette tutte prima o poi prima dell'unica istruzione vera di questo programma python che è l'ultima main chiamo il main ricordiamoci di scriverlo perché se no alla fine lo sito è tutto ma non fa niente bravo l'hai chiamato il main quindi questo era il primo vantaggio ordine e indipendenza le ordine delle funzioni posso scrivere nell'ordine che voglio non importa più mentre altrimenti prima avrei dovuto se una funzione ne uso un'altra allora la funzione utilizzatrice deve venire dopo la funzione utilizzata e mi crea un pensiero in più a cui pensare ne abbiamo già troppi secondo vantaggio che avendo il codice principale dentro una funzione questa variabile ad esempio studenti diventa una variabile locale della funzione e non più una variabile globale del programma e quindi neanche per errore una delle altre funzioni può andare a toccare queste variabili qua altrimenti per una stranezza del python anche se il programma principale fosse in fondo ma definisse le variabili globali queste variabili globali diventerebbero visibili anche le funzioni definite sopra questa è una stranezza così le evitiamo ogni funzione ha le sue variabili non si può sbagliare non ho nessuna variabile globale qua potrei mettere delle costanti eccetera ma se voglio una variabile davvero globale cosa che non è quasi mai consigliata lo devo fare apposta davanti alle funzioni prima delle funzioni è così anche più esplicito tutto il resto è definito dentro la funzione stessa non c'è rischio che una funzione leggi studenti quando io qua dentro scriverò studenti uguale qualcosa qua scusatemi uguale qualcosa questo studenti qui è di sicuro una variabile locale di questa funzione e non ha nulla a che vedere con quest'altra che si chiama nello stesso modo ma è come ambito come scope definita in una funzione diversa in questo l'altro secondo grosso vantaggio elimina il rischio che una funzione usi impropriamente incautamente una variabile del programma principale adesso studenti e la lista che contiene tutti i dati anche se la utilizzasse non muore nessuno ma immaginate un programma principale che faccia for i e quella i lì vuoi che non la venga usata una variabile che si chiama i all'interno di una funzione se deve fare dei cicli e allora facendo un ciclo innocente vai a si può dire scuttanare rovinare il valore della variabile del ciclo del programma principale così non succede più il terzo vantaggio poi basta perché non voglio cercare di vendervi niente è che se io chiamo main chiamo il programma principale che farà tutto ma in fase di sviluppo magari le funzioni non ce le ho ancora tutte allora magari sto main qua non lo chiamo e chiamerò per provare solamente la funzione leggi studenti magari con un file di prova cioè alla fine visto che il programma principale è un'istruzione sola posso giocarmela per fare dei test solo della singola funzione magari c'è una funzione che non mi viene si è incasinata penso che funzioni tira fuori un risultato sbagliato anziché testare tutto il programma che solo a un certo punto chiamo la funzione chiamiamo solo la funzione e quindi mi aiuta a fare il debugging il test delle funzioni una per una ok quindi io lo stile che adotterò sarà questo tante funzioni compresa una che è il programma principale che tendo a mettere per prima perché è la prima cui penso tendenzialmente e poi le funzioni d'appoggio in mezzo per chiudere ovviamente con la la chiamata la funzione main occhio eh le parentesi tonde ci vogliono perché per chiamare una funzione devo mettere le parentesi tonde ok chiusa la parentesi sulla struttura del codice iniziamo a fare le varie funzioni allora leggi studenti cosa fa? deve leggere i studenti presenti in quel file lì allora come prima cosa legge il file f uguale open usiamo open senza la guida una volta di tanto no usiamola intercambiabilmente nome file virgola lettura virgola encoding e poi alla fine chiuderò il file come ho sempre fatto comunque il file lo devo leggere semplicemente scelgo di non leggerlo io a mano con la readline ma scelgo di chiedere a csv.reader leggerlo per me quindi chiamerò un non so reader uguale csv.reader di f ho importato vs code si è accorto di cosa stavo scrivendo ho importato già ho aggiunto questo import statement importo in modo csv e quindi reader è un oggetto attraverso il quale posso leggere il contenuto del file così come già diviso in liste quindi io posso avere studenti uguale lista vuota for riga in reader studenti punto append riga anzi chiamiamolo studente non riga perché non è più una riga sotto forma di stringa ma è già una struttura dati che mi rappresenta le varie informazioni su uno studente io in questo punto qua prima di fare append è il punto in cui potrei fare delle conversioni dati ad esempio la matricola la voglio come intero quindi prima di fare append farei ad esempio se la volessi come intero farei studente di zero uguale int studente di zero o cancellare dei campi o aggiungere dei campi a seconda di cosa ci serve cioè mi dà la lista cosiddetta dal file ed è estratta ed è composta io poi gli singoli elementi della lista se voglio li posso convertire controllare o fare cose e poi li metto dentro questa struttura dati la matrice grande in questo caso non è richiesto perché in realtà la matricola non la guardiamo neanche quindi possiamo evitare possiamo tenercela come stringa solo per dire in altri casi se ci sono dei valori numerici su cui dobbiamo lavorare conviene convertirli subito perché altrimenti appena li leggo così li converto una volta sola perché altrimenti se ve lo portate avanti come stringa dovrete convertirlo in int almeno in 20 posti diversi nel seguito del programma tutte le volte che lo usate lo leggete lo confrontate eccetera eccetera allora il programma è pieno di int di questo int di quell'altro eccetera ma mettilo int una volta quando l'hai letto non ci pensi più se lo vuoi usare come int leggilo come int fatemi zittire questa cosa qua ok vabbè questo caso non mi serve lo lasciamolo via ma non ci serve è per ricordarci che a questo punto è il momento prima di salvare questo dato che ho letto lo posso manipolare dimmi sì 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 in questo caso mi si schianta subito la prima riga adesso lo possiamo possiamo anche provarlo e facciamo un return anzi lo proviamo return studenti e al posto del main chiamiamo leggi studenti il main so che non funziona se provassi mai a leggere il main non funziona perché chiama delle funzioni che non esistono quindi non posso ancora chiamare finché non ho fatto tutto il resto però la legge studenti mi sembra che sia fatta e finita a meno del bug che il vostro compagno ha già scoperto e quindi posso testarla quindi questa volta questo programma definirà due funzioni la funzione main la funzione legge studenti e la funzione legge studenti viene e poi c'è un'istruzione unica che è questa qua allora se io eseguo questo programma vedete che non mi dà nessun errore sul fatto che estrae cds non è definita perché è vero che sto chiamando una funzione che non è definita ma quella riga di codice non lo sto eseguendo e quindi non se ne accorde non ci passa da lì ad accorgersi mentre invece entra dentro leggi studenti apre il file evidentemente perché non mi dà nessun errore nell'apertura del file ma mi dà un errore che è qua value error invali literal for int with base 10 matricola e mi evidenzia dov'è il punto e il punto ovviamente è questo perché io ho fatto studenti di 0 int studenti di 0 su cosa? sulla prima colonna della prima riga che non è ancora un dato quindi quello che conviene fare è saltare la prima riga avevamo visto non a caso nello slide c'era il suggerimento dicendo se vuoi saltare una riga dirlo al reader non è questa roba qua next con la x salta la riga di intestazione non la voglio leggere in questo caso se faccio run non mi dà errori avrà fatto la cosa giusta o no non lo so proviamo a stamparlo a vedere cosa ha fatto quindi questa funzione di agi studenti restituisce questa cosa che guarda caso sembra vediamo dove si apre la lista eccola qua falchi nicolò italiana eccetera eccetera faldella pietro italiana che sono quelli che ci aspettavamo di vedere ok quindi ho aperto ho aperto il file ho schippato la prima riga ho impostato un reader che che mi converte ogni riga del file via via che viene letta e lo metto la aggiungo in una in una lista a questo punto la lista studenti avrà tanti elementi quanti sono gli studenti ed è quella che il main si aspetta di ricevere poi seconda funzione che devo implementare estrai cds cioè fai una lista che contiene cds estraendo i valori univoci dalla dalla lista degli studenti quindi è una funzione def estrai cds che riceve tutti gli studenti come parametro deve avere tutti gli studenti e generare un elenco che vado a popolare man mano che leggo gli studenti quindi semplicemente dovrò prendere uno studente per volta estrarre il suo cds di questo studente che è studente di 6 se non abbiamo sbagliato a contare prima e poi tendenzialmente dovrei fare elenco punto append di cds con una certa cautela perché se faccio così avrei un elenco che contiene 200 studenti 200 cds ripetuti noi abbiamo scritto prima l'elenco di cds lo vogliamo senza ripetizioni senza duplicati e quindi vorrà dire che lo devo aggiungere solo se non l'ho già aggiunto prima quindi if cds is not in elenco scusate is not in elenco appende in not in sono gli operatori di appartenenza quindi è come se facessi un index vai a cercare se dentro l'elenco c'è già quindi la prima volta arrivo qua con l'elenco vuoto il primo cds che trovo di sicuro non è elenco una lista vuota e quindi di sicuro non lo trova non trovandolo entra in questo if e lo aggiunge seconda interazione prende il secondo cds e va a vedere in questo caso il secondo era diverso dal primo e quindi quando va a cercare se c'è già nella lista non lo trova e quindi lo aggiunge e così via quelli che invece trova già non li aggiunge quindi lo possiamo verificare se funziona semplicemente provando a stampare cosa ah no e poi devo fare no diciamo che me lo sono dimenticato provo a fare strike cds ds no ecco il nostro main di prova chiamavo la funzione adesso proviamo mi serve ovviamente la matrice studenti quindi non posso chiamare strike cds se non ho chiamato prima leggi studenti e strike cds e mi stampa attenzione mi stampa none perché mi stampa none perché non l'ho calcolato perché era un vuoto perché non li ha trovati no perché ho dimenticato il return quando il valore di ritorno di una funzione è none vuol dire che non c'era nessuna istruzione return oppure c'era un'istruzione return senza nessun argomento allora ritorna comunque il valore convenzionale che è none quindi non vuol dire che non l'abbia calcolato ma vuol dire che non l'ha restituito in questo caso quindi farei return elenco che è da fare e mi stampa l'elenco dei corsi di laurea a cui siete iscritti quindi vuol dire che nell'implementare queste due funzioni e testarle a pezzettini io sono anche sicuro che il programma principale da qui fino a qui è giusto e quindi mi basta semplicemente implementare quest'altra funzione per avere il programma complesso non devo più andare a testare ovviamente devo verificare questo allora cosa fa scrivi studenti qui c'è stato un po' sibillino apro un file con il nome giusto vabbè il nome me lo devo costruire allora scrivi studenti che si chiama la funzione e ha due argomenti io sono pigro copio questo scrivo def e incollo due punti a capo poi è chiaro che il nome degli argomenti qua lo posso cambiare indipendente dal nome delle variabili però sono nomi che ci aiutano a capire cosa sono allora lui deve aprire in scrittura un file contenente un sotto insieme degli studenti quindi il primo sottoproblema che devo avere è aprire il file in scrittura e il file il nome di questo file cosa sarà sarà il nome del file sarà il cds più punto csv inf 1t3 punto csv quindi concateno le due string lo posso fare così lo posso fare con f string potrei anche io scrivere probabilmente f csv cds scusate cds scusate punto csv con cateno dentro un f string anziché con l'operatore è esattamente la stessa cosa e quindi io avrò il mio file di uscita f open si chiama nome del file in scrittura encoding uguale utf 8 apici utf trattino 8 f punto close di nuovo potete utilizzare la sezione with per farmi fare il close da solo adesso dentro questo file cosa ci devo mettere ci devo mettere tutti e soli gli studenti che sono del cds giusto quindi avrò for for studente in studenti if studente di 6 è uguale a cds allora lo stampo tra l'altro abbiamo verificato un attimo fa che studente di 6 è proprio la colonna giusta una delle mie paranoie è ho scritto due volte un numero allora definisco una costante perché devo essere sicuro che questi due siano lo stesso e se mi cambia il formato del file e dovessi andare a correggere 6 in 7 no allora visto che ci costa poco colonna cds colonna cds uguale 6 perché uno state sicuro la settimana prossima quando leggete questo codice leggete un 6 e dite che cacchio è 6 cos'è? la data del compleanno di mia zia è lì a contare le colonne per l'ennesima volta l'abbiamo fatto una volta sola non ripetiamo e ci salviamo il significato di quel valore che poi è un 6 però quando leggo sta riga capisco cosa sta facendo e se tutto va bene creerò una riga nel file allora io posso fare in due modi adesso ho il file aperto di scrittura ci scrivo dentro f.write e poi qualcuno si vada a prendere il caffè perché bisogna scrivere la matricola quindi studente di 0 virgola il cognome studente di 1 virgola il nome studente di 2 e beh andare avanti per tutte queste eccetera eccetera e devo prendere i dati 1 1 e interpolarli in una stringa oppure potrei fare f.write di studente proviamoci cosa succede se faccio f.write su studente secondo voi le risposte possibili sono funziona funziona ma mi scrive la lista con le parentesi quadre che non voglio oppure da errore a questo punto possiamo provare direttamente con main che faccia tutto e vediamo cosa esce la risposta giusta era la terza da errore perché write vuole un argomento di tipo string e non di tipo lista è tanto gentile ma non è che può fare la cosa diversa da quella che è per cui è stato pensato quindi al limite dovrei fare posso farlo dico vabbè senti però str sa crearmi una lista data una una stringa data una lista no? e infatti che non vale che non vale più barra n questo è un pochino migliora se mi metto il barra n nel senso che mi mette a capo però me li stampa con la sintassi di una lista e invece non è un formato csv questo e allora c'è la terza possibilità vabbè facciamo una join cioè non voglio stampare lo studente convertito in string dalla funzione str che ci mette le parentesi quadre gli apici le virgole in mezzo per convertire una lista in stringa posso usare join che mi concatena gli elementi della lista quindi potrei scrivere invece f.write virgola punto join studente più a capo eh sempre perché questo qua me l'ho già dimenticato una volta non faccio questo errore due volte quindi adesso sono a posto perché ho ricostruito una riga di campi separata da virgole che è il formato che dovevo costruire tranne che mi dà errore cosa dice allora l'errore me l'ho già su quella riga lì perché è l'unica che abbiamo cambiato e ci sta type error sequence item 0 expected str instance int found che mi sta dicendo guarda io sto facendo una join però il primo elemento sequence item 0 è un int non è una stringa e join funziona se la lista è una lista di stringhe cosa ci fa quell'int lì in mezzo è la matricola no? che mi ha detto proviamo vedete metterla come int è più bello e quindi il fatto di avere uno dei campi della lista numerico mi impedisce di durare join allora se togliessi quella cosa lì dovrebbe funzionare questo programma va bene perché quel campo lì non lo usiamo mai e tantomeno non lo usiamo il valore numerico però nel caso in cui sia ragionevole avere alcuni campi string alcuni campi numerici il trucco del join non funziona o meglio funziona dopo che eventualmente io abbia convertito tutti i dati in string si può fare basta farlo tra l'altro una cosa di questo genere la fai con una comprehension studente come stringa uguale str di campo for campo in studente e quindi stampo poi faccio la join sono studente string cosa ho fatto? ho preso la studente che contiene dei campi di tipo misto e ho costruito un'altra lista i cui elementi sono str di campo cioè ogni campo viene preso e convertito in stringa la maggior parte sono già string quindi non gli capita niente quelli che non fossero stringa lo diventano per non fare un ciclo con l'append oppure potevo anche modificare sapendo che c'è solo la matricola intera avrei potuto mettere semplicemente studente di 0 uguale str di studente di 0 convertito in stringa così dovrebbe funzionare e mi dà il formato abbastanza giusto no abbastanza giusto giusto i spassi nei nomi non mi danno fastidio ecc questi sono perché a seconda del dato che ho posso usare magari se avessi solo due campi mi frega niente mi fermavo qua e l'avevo già fatto ovviamente mettendo il barra N al fondo avendo tanti campi cerco un modo di automatizzare la cosa e poi però devo farlo in modo giusto una puntualizzazione su una cosa che ho detto allora qui questa conversione qua di tutti i valori in string questo è indipendente nel senso che io posso avere un numero intero un float oppure non averli questo funziona sempre prende a tappeto ogni campo lo contraforma in stringa in questo caso però ce n'è uno solo quindi uno potrebbe dire converti solo quello e ho detto una cosa a voce che però mi voglio rimangiare potrei aver scritto studente di zero uguale str di studente di zero e poi il f.write di quella join eccetera eccetera usando il studente questo funziona no allora funziona sì nel senso che se io vado a vedere i file mi sono stampati tutti attenzione eh studente di zero non è il primo studente è il primo campo della riga studente studente per studenti sono tutti gli studenti studente è uno solo di essi e quindi zero un due tre sono i suoi campi ok quindi ho preso il singolo studenti sono tutti in questo ciclo for studente è a turno una delle righe di questa riga prendo il primo campo e lo trasformo in stringa e infatti me li ha costruiti giusti quindi questo funziona per una definizione molto leggera di funziona nel senso che questo programma non me ne accorgo ma che cosa ho fatto? qua sono andato a modificare un dato che non è mio perché studente è una riga è un alias alliesima riga della tabella che a sua volta la tabella studenti a sua volta l'ho ricevuta come parametro e quindi è un alias della variabile del programma principale quindi questa funzione qua scrivi studenti scritta così prende la matrice la stampa su file nel formato corretto ma poi il programma principale senza saperlo si trova una matrice modificata perché a questo punto il primo dopo aver chiamato questa funzione la prima colonna non è più intera ma è stringa quindi ho diciamo così causato quello che in gergo chiamiamo un effetto collaterale di chiamare la funzione la funzione ha fatto ciò che doveva ma ha fatto anche altre robe che non mi aspettavo e tipicamente mi ha modificato dei dati che per una funzione che si chiama stampa tabella non mi aspetto che mi vada a modificare la tabella che sta stampando ok quindi se voglio fare questo che è legittimo lo devo fare non su studente di 0 ma su una copia quindi localmente mi faccio una copia studente 2 uguale list di studente ricopio i dati e poi lì posso fare tutti i pacciocchi che voglio perché mi sono fatto una copia locale e non stanno a modificare attraverso gli alias la variabile del programma principale ok quindi questo qua lo commento e ci aggiungo anche il perché gli altri ci accorgiamo perché non funziona no? perché se noi lo proviamo ci dà errore e quindi c'è proprio una gestione sbagliata dei dati questo qua non ce ne accorgeremmo se non a lungo termine quando il programma cerca di fare dei calcoli su un campo numerico e gli errore quindi dico no attenzione si modifica la variabile del programma principale e non dobbiamo farlo non dovremmo farlo nella specifica di questa funzione non c'è e poi ti distruggo i dati su cui stai lavorando vabbè questo come al solito sono n modi che possiamo usare per fare cose a mano oppure per fare il mestiere di scrivere una riga su un file csv possiamo anche chiamare colui il cui mestiere è scrivere le righe su un file csv che è csv writer quindi su questo file f posso fare un creare un writer csv.writer di f e quindi quando voglio stampare una riga chiedo writer di farlo quindi sarà semplicemente writer non più f punto ma writer punto non parlo direttamente col file parlo col suo maggiordomo writer punto write row di studente gli passo la lista non la stringa cioè la conversione della stringa da lista alla stringa se la fa lui è nato per quello quindi rifacendo run e aprendo un file a caso ho un problema cioè il problema è perché compaiono due volte degli a capo perché? perché compaiono due volte l'a capo perché write row aggiunge un a capo dopo che ha stampato la riga e probabilmente all'interno dell'ultimo campo della colonna la read row non cancellava il carattere di a capo questo perché c'era scritto forse sulle slide non c'era scritto nella documentazione allora docs.python.org se noi andiamo a prendere il modulo csv e parla del reader dice quando io creo un reader lui dice il file che gli hai passato dovrebbe essere aperto con questo parametro newline uguale vuoto vedi che l'esempio che fa qua sotto è usare questo quindi andiamo a vedere seguiamo questo suggerimento nell'open in lettura no non è bastato anche e anche nel writer scusate cioè gli sto dicendo che writer qua ok quindi questa è una nota che dice se tu vuoi leggere o scrivere senza avere di mezzo newline quando lo leggi non leggerlo e quando lo scrivi non aggiungerlo perché ci pensa il metodo writer raggiunge lui da capo e quindi non lo facciamo aggiungere di nuovo dall'oggetto file ok questo probabilmente è un dettaglio che dobbiamo aggiungere sulle slide ma la documentazione è sempre stata che ricordo che nel foglio le funzioni abbiamo riportato questa nota però al netto di questo a capo che appunto si risolve devo aprire il file in modo corretto in modo che poi il csv reader e il csv writer sappiano gestire bene in fine linea a parte questo tutto il lavoro che facevamo prima lo stiamo delegando al nostro csv writer che fa il lavoro da solo l'ultima cosa che non abbiamo fatto ancora che era richiesta dal testo dell'esercizio è durante la creazione dei file si stampi anche il numero di studenti presenti in ciascuno dei gruppi ma questo lo posso fare facilmente ad esempio dicendo la funzione scrivi studenti già che c'è già mentre che li scrivi mi riconta e mi dice quanti ne ha scritti quindi possiamo fare un c uguale a 0 visto che questa funzione di per sé non sta ritornando nulla gli facciamo ritornare il c un c che si incrementa ogni volta che stampa qualcosa quindi c uguale a 0 all'inizio apre il file fa tutte le sue cose per gli studenti che sono nel cds giusto stampa la riga corrispondente e incrementa il contatore chiude il file e restituisce il contatore che a questo punto sarà uguale al numero di righe che è stampato che non è il numero totale di studenti è il numero di righe che è stampato in quel singolo file e allora il programma principale potrà torno su nel main si prende questo dato e stamperà che nel corso cds ci sono c 20 ok dimmi dunque questa c qua è fuori dal forma ogni volta che chiamo la funzione scrivi cds inf conta quelli di quella funzione lì di quel cds lì poi richiamo la funzione una seconda volta lei rimette il contatore in realtà sarà una variabile diversa perché ho chiamato una funzione una seconda volta parte con le sue variabili parte da zero e incrementa non si ricorda il valore di c dal cds precedente scusami sì 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 la funzione la chiamo tante volte la funzione non fa il foro al suo interno il foro interno la funzione è andarsi a vedere gli studenti ogni volta sta cercando un cds specifico è quello che fa qua il main che dice senti io so che ho 7 cds prendiamo il primo e facciamosi dire la funzione quali sono gli studenti e facciamogli scrivere sul file poi qui sono due foro hanno i dati il foro più esterno è nel main che cerca il cds e il foro più interno è dentro scrivi studenti che invece va a spazzolarsi l'elenco intero per andare a filtrare quelli che hanno il campo giusto questa tipica variabile di un ciclo inizializzato fuori aggiornato dentro usato fuori il risultato finale ok? allora andando avanti cioè la prossima ora abbiamo questo capitoletto qua di cui vi darò qualche informazione non approfondiamo troppo che però ci risponde a una domanda che abbiamo lasciato ho lasciato in sospeso credo dalla seconda lezione cioè come faccio come faccio a gestire gli errori quando un utente deve inserire un numero e mi inserisce una parola io faccio int per convertirlo mi dava value error e il programma si bloccava e finora non siamo stati capaci a gestirlo quando mi dà un value error il programma si blocca anche qua quando apriamo un file se il file non esiste mi dà un file error un OSR non mi ricordo e il programma si blocca allora impariamo nel loro successivo il meccanismo per poter dire sì io so che a certo punto possono capitare dei problemi ricordate anche io lunedì abbiamo fatto il Vaticano che ci dava division by zero abbiamo fatto finora di tutto per evitare che gli errori si verificassero però non è che puoi prevenire tutti gli errori del mondo soprattutto quelli dati dovuti ai dati inseriti dall'utente non è che puoi impedirgli di inserire una cosa sbagliata quindi a volte capita l'errore dobbiamo imparare a fare in modo che il programma o si blocca e muore come è sempre fatto oppure proviamo a recuperarlo e quindi impariamo il meccanismo di gestione delle eccezioni prima vi lascio però fare l'intervallo grazie grazie